Grazie Francesco, benvenuti a tutti gli amici ospiti cinesi. Io sarò molto breve per rispetto nei vostri confronti per avermi consentito questo passaggio, questo sorpasso. Voglio soltanto dare una testimonianza. Io rappresento qui la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO che in quanto organismo dell'UNESCO è una palestra esemplare di come si può fare diplomazia attraverso la cultura. La nostra Commissione Nazionale insieme alla Commissione Nazionale Cinese per l'UNESCO hanno un'antica tradizione di collaborazione. Ricordo addirittura più di vent'anni fa un seminario svolto in Cina, a Pechino, dove noi italiani abbiamo aiutato gli amici cinesi a svelarle loro le tecniche per la ricostruzione dell'arte dei tessuti, portando esperti della zona di Prato in quel simposio. È stata un'occasione estremamente importante. Ma l'UNESCO di per sé, per sua vocazione, è un luogo dove la cultura è il vettore principale delle relazioni internazionali. Credo che questo sia un esempio positivo che trova in occasioni come quelle dell'Expo, che trova in occasioni come quelle dell'incontro della diplomazio culturale fra Cina e Italia, una possibilità di inveramento. Quindi grazie a Francesco Rutelli che di questa filiera della diplomazia culturale nel nostro Paese si è fatto rappresentante anima per avere realizzato anche in questa occasione un'opportunità importante per sottolineare come i beni culturali, più che essere la risultante di una politica e di una diplomazia, sono l'anima e direi la sollecitazione principale per portare avanti relazioni diplomatiche efficaci. Credo che la storia dell'UNESCO lo dimostri, lo dimostra anche recentemente nelle vicende che abbiamo attraversato nelle note drammatiche realtà medio orientali. Credo che la grande e forte relazione fra la nazione e il popolo cinese, la nazione e il popolo italiano siano garanti per un domani di pace all'insegna di una cultura forte e rappresentativa di una realtà mondiale globalizzata all'insegna della bellezza e della realtà culturale come anima di questa bellezza. grazie Francesco, grazie a tutti voi e buon lavoro.